La Rassegna Stampa Ha firmato a Milano il contratto preliminare per la sua cessione al Fondo Svizzero Responsible Capital. L'ultima parola prima del definitivo spetta però al Governo Draghi. Il servizio di Pierluigi Boragine. È stato stipulato a Milano il contratto preliminare tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irks ed il gruppo Responsible Capital che ha ad oggetto la cessione delle quote di maggioranza, il 90% dell'azienda ospedaliera Gemelli Molise. La conclusione del contratto definitivo di cessione è subordinata al verificarsi di alcune condizioni tra cui quella legata all'eventuale esercizio del cosiddetto Golden Power, una sorta di potere speciale. La facoltà ha garantita all'autorità pubblica nel caso di specie al Governo di intervenire nelle transazioni di mercato riguardanti società qualificate come strategiche Golden Power che dovrà essere esercitata entro l'anno. Dunque l'ultima parola spetterà al Governo Draghi che dovrà pronunciarsi sulla cessione del Gemelli Molise al Fondo di Investimenti Svizzero. L'operazione prevede significativi elementi di continuità in relazione alla proprietà dell'immobile, fanno sapere dal Gemelli che resta in capo all'Università Cattolica del Sacro Cuore e al concorso della Fondazione e della Facoltà di Medicina e Chirurgia Gemelli di Roma alle attività cliniche, didattiche e di ricerca della struttura ospedaliera molisana. Ed ora un aggiornamento sul coronavirus. L'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale parla di 10 nuovi contagi su 451 tamponi refertati. Il tasso di positività è del 2,2%, 5 i guariti, casi attualmente positivi sono 102, 3 i degenti al Cardarelli di Campobasso, 2 in malattie infettive, il terzo invece in terapia intensiva. E procediamo con la stampa locale, leggiamo i titoli di primo piano Molise. In evidenza ci sono ancora le elezioni amministrative del 3 e del 4 ottobre, Isernia Melogli prova a riunire il centrodestra. Ieri sera coalizione in conclave, l'avvocato chiederà a Iorio e Tedeschi l'apparentamento al ballottaggio. L'ex governatore se mi chiama, rispondo ma i problemi restano. Castrataro tira una bell'aria. I dati Fabrizio Faile Pienone, Bottiglieri KO, Sorpresa Volt, Exploà Vinci e Di Giacomo. Boom, Isernia Futura. E all'interno di primo piano trovate lo speciale, le preferenze di sindaci e candidati dei 30 comuni. Il punto invece a firma di Luca Colella, Isernia 5 Stelle e Lega oltre il flop. E c'è anche il bollettino in prima pagina, dentro la notizia 10 positivi, 5 guariti, tasso al 2,2%, stabili invece i ricoveri. Gemelli Molise, cessione al Fondo Svizzero, passi in avanti, firmato il preliminare. Palazzo Daimmo, Micone, sbotta. L'esecutivo snobba le mie richieste. Servizio 118, tagliati i rimborsi in subbuglio, le associazioni pubblicato il nuovo regolamento, difficile coprire i costi, si rischia la paralisi. C'è una notizia che riguarda il territorio di Venafro, Tir esce fuoristrada e cappotta su un fianco, autista in ospedale. Larino, Puchetti caccia dall'aggiunta Vesce e Bonomolo, dentro invece Giardino e Pontico. Nel taglio basso troviamo lo Sport, Lupi, Cudini, Sicocco, la Bomber, Rossetti, 4 gol in 7 gare e su Sky i match con Monopoli e Bari. Coppa Italia, di scena oggi, le partite di andata degli ottavi di finale e infine il basket Magnolia, sempre più una realtà in Serie A. Dalla stampa locale a quella nazionale vediamo insieme i titoli del messaggero. Riforma fiscale, strappo lega, questo è il titolo in evidenza. I ministri del Carroccio disertano il Consiglio dei Ministri che dà il via libera alla delega sul fisco. Scontro sul Catasto, Salvini deve spiegare, dice Draghi, mentre il leghista cambi metodo. E c'è anche il Nobel al fisico italiano, Parisi, erede di via Panisperna. Il professore romano al telefono pensavo fosse uno scherzo. Elezioni 2021, Renzi, Sischiera, Campidoglio, io voterei il DEM. Meloni, ballottaggi aperti, Fratelli d'Italia, è cresciuto ovunque. Michetti, Chiamalaraggi, Gualtieri, Guarda Calenda. Pubblica amministrazione, sì, al lavoro agile, solo con il Green Pass. Controlli ogni giorno dal 15 ottobre, stop a stipendio e pensione per tutti i dipendenti senza la certificazione verde. E la fotonotizia del messaggero riguarda il rogo dei bus ATAC, ipotesi sabotaggio. Il fuoco che brucia il cuore della città, nuovo episodio nel deposito di Torsapienza, sono 26 i mezzi distrutti. Dal messaggero passiamo al quotidiano, il Corriere della Sera, Salvini, Strappa, Draghi, invece va avanti, titola il Corriere Oggi. Varata la delega fiscale, la lega diserta, Draghi, spiegheranno. Salvini non è l'oroscopo, il capogruppo del carroccio Molinari, ci stanno accompagnando alla porta. Il centrodestra verso un vertice dei leader. Intervista con Letta, leader leghista e responsabile, noi col Premier. Il ballottaggio a Roma caccia agli elettori di Raggi e Calenda. E la fotonotizia del Corriere della Sera è dedicata al Nobel, al fisico del volo degli storni, il riconoscimento all'italiano Parisi per gli studi sui sistemi complessi. Le inchieste e la politica, indagati fidanza e di donna, i casi, l'eurodeputato e l'avvocato. Inchiesta invece a Milano, il virologo Galli, accusato per il concorso truccato. Dal Corriere della Sera alla Repubblica, anche qui si parla dello strappo con la lega sul fisco, i suoi ministri disertano il vertice di governo sulla riforma, nessun voto in bianco, Draghi va avanti lo stesso, il leader leghista chiarisca, cambiano aliquote IRPEF e deduzioni, potenziata la lotta all'evasione e il nuovo catastro dal 2026, il Premier. Nessuno pagherà di più o di meno. Il Nobel a Giorgio Parisi, fisica che salva il clima, vince assieme ad altri due scienziati. Roma comincia la partita per il ballottaggio, calenda al PD o con me o con i 5 stelle. Il 5% degli appalti Covid, ecco le carte che accusano l'ex socio dello studio Conte. E si parla anche di università, concorsi truccati, indagato con altri 32, il virologo Galli. Cultura, Paolo Rumiz, in mare tra le braccia di Europa. E passiamo adesso ai titoli del Fatto Quotidiano. Anche qui c'è la politica, sorpresa, ha perso voti pure chi ha vinto. I numeri, altro che sconfitta populista e vittoria moderata. Retromarcia, sala poco sopra i dati 2016, tutti gli altri dem arretrano. Centro, irrilevante, boccia, PD con Movimento 5 Stelle e moderati. Nel taglio alto del Fatto Quotidiano concorsopoli universitaria, così Galli si farà arrestare per quesizioni a Milano, Roma, Torino e Palermo. I titoli di spalla sulla delega fiscale, Salvini fa Salvini, lega via dal Consiglio dei Ministri, elite con Draghi. Il calendiano costa, bavaglio persino ai procuratori, solo comunicati. È indagato a Roma di donna, affari spendendo i nomi di Conte e Arcuri. Oggi può saltare il processo, Becciu rischia, mancano audio di Perlasca. E vediamo adesso i titoli del quotidiano economico. Il sole 24 ore, la riforma naturalmente in evidenza, riforma per IRPEF, IVA, IRAP, Catasto, la Lega diserta. Draghi spiegherà. Come cambia il fisco? Il Consiglio dei Ministri approva la delega, strappo del caroccio, letta, commenta così, fatto gravissimo. Il Premier, non vogliamo aumentare il gettito globale, ma diminuirlo. L'analisi, progetto molto ampio, tempi stretti e fondi ridotti. Le misure in arrivo, redditi, taglio IRPEF, si comincia con il cuneo fiscale, poi via la revisione delle aliquote. Per quanto riguarda le imprese, l'addio all'IRAP sarà graduale, apre il cantiere per semplificare l'IRES. L'IVA cambia faccia con aliquote imponibili, ma servirà all'ok comunque dell'Unione Europea. Mentre il Catasto, nuovi valori patrimoniali sulla casa e caccia agli immobili non dichiarati. Conti pubblici, primi rilievi, crescita, ok, rischio debito. 118, i comuni più grandi, con oltre 15.000 ammitanti, oggetto dello studio sui flussi elettorali. Elezioni amministrative, Fratelli d'Italia allunga sulla Lega, il Movimento 5 Stelle crolla. E il PD è vincitore, ma con gli stessi voti del 2016. L'intervista, Antonio Marcegaglia, il gruppo è pronto a nuove occasioni, bilancio 2021 da record. E adesso vediamo insieme le notizie di sport, leggendo i titoli della Gazzetta dello Sport. Una coppa tira l'altra, titola oggi la Gazzetta. Nations League semifinale, Italia-Spagna, San Siro alle 20.45. Mancini, non vogliamo fermarci più. A Milano tutto esaurito, chiesa e insigne vanno all'assalto. La speranza del CT imbattuti fino alla fine del Mondiale. Il caso, striscione contro Gigio, ma un azzurro non si fischia. Caso Coulibaly, individuato da un video, l'ultra-razzista, il club viola collabora. Nel taglio basso, Tho, Giraud e Ibra tornano 726 gol. Lo svedese carica il Milan. Chi vince? Lo scudetto. Chi ha? Zatan. Dopo la sosta a Pioli, punta ad avere la coppa che in carriera ha segnato centinaia di reti. E con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa, non prima di aver dato uno sguardo al palinsesto di oggi che vede alle 11 Paese Mio, 12 Camminando Molise, 13.50 Musa TV, il nostro telegiornale alle ore 14, Paese Mio ore 16, 17.30 Camminando Molise, 19.30 il telegiornale, l'ultima edizione alle ore 23 come di consueto. E con questo è davvero tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie.